l'ottocento settantotto cartoline in due album così sicuramente un poco meglio ci sono varie città ho visto rivoli, Livorno, Vaprio d'Adda, Torino, Verona, Foligno Genova, Napoli, Castellammare del Golfo, Subiaco, Palermo, Orbetello, Prestito, Barcellona, Pozzo di Cotto, Messina, Verona per gli specialisti mi sembra abbastanza interessante andiamo al secondo album ci sono personaggi Rosmini, Emiliani Madonna di Loreto, Monreale, Fotografiche Siracusa, Albenga Siracusa, Piazza Armerina, Ragusa, Tortorici Palermo, Parma, Chiusa Sclafani, Pompei sempre Pompei, Genova, Budrio qua vedo Palermo e Bolzano, Bologna, Recoaru, Firenze sempre Bologna e Bolzano questa di qua questa di qua che è qualcosa che è stato comprato presso le aste di Nello Zuccari un sacco di tempo fa questa presumo che sia Palo Castel San Giovanni, Parma questo è veramente interessante sempre Castel San Giovanni San Giorgio Chiacentino Spieve di Revigozzo Castel Arquato e abbiamo finito se volete altre informazioni scrivete al negoziocchioccio da 4baiocchi.com